Ha tentato di investire con il suo motorino un agente della polizia locale, dopo non essersi fermato all'alto in posto dalla pattuglia, allontanandosi ad alta velocità verso Quarto Daltino, protagonista di quanto accaduto lo scorso 25 maggio a Casale Sul Sile, un 51enne veneziano che qualche ora dopo si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Venezia, denunciando il furto del mezzo raccontato che gli sarebbe stato rubato dai gnoti il 23 maggio. Ma ieri mattina, durante uno specifico servizio dei militari di Casale Sul Sile, l'uomo è stato visto proprio in sella al motorino di cui aveva denunciato il furto. Durante un successivo controllo, il 51enne è risultato privo della patente di guida, perché revocata, e sprovvisto di copertura assicurativa, per questo è stato sanzionato amministrativamente. L'uomo è stato anche deferito in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale e simulazione di reato. Sempre nel corso dei controlli per il rispetto del codice della strada, i militari della stazione di Pederoba hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 46enne montebellunese che martedì sera, mentre percorreva via Dalmazia a Montebelluna al volante della sua auto, ha perso più volte il controllo del mezzo, andando prima contro un paracarro, per poi salire su una rotatoria, prima di finire la sua corsa contro il muro di cinta di un edificio disabitato. L'uomo illeso è stato subito sottoposto alla prova con l'etilometro. Il tasso alcolemico è risultato superiore a 1,5 grammi per litro. Un 43enne è stato invece denunciato dai carabinieri di Maserata nella stessa serata, ma stavolta a lungo la statale 13 a Spresiano, dove con la sua auto ha urtato una 27enne che ha riportato fortunatamente solo qualche lieve ferita. Anche lui sottoposto ad accertamento è stato trovato con tasso alcolemico pari a circa 3 grammi per litro. Infine a Montebelluna i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno rintracciato e arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso una cittadino dominicano di 49 anni che dovrà scontare la condanna ad un mese di carcere per guida in stato di ebbrezza commessa nel 2015 a Montebelluna.